ciao a tutti ragazzi eccoci qua anche oggi con un nuovo video siamo qua con un'altra puntata del gioco obbligo verità vi ripeto ogni volta che io faccio solamente verità e adesso vado a prendere il mio telefono che ce l'ho qui con me questa volta uso il microfono di cui vi parlavo nello scorso video che posso anche dirvi ora quanto l'ho pagato voi avete detto qualsiasi tipo di prezzo dai 50 euro a un euro ma solo una persona è riuscita a indovinare e mi ha detto l'hai pagato meno di un euro su aliexpress e infatti questo microfonino che sto utilizzando adesso che probabilmente utilizzerò per molto tempo spero l'ho pagato solamente 88 centesimi su aliexpress quindi ragazzi non fatevi fregare se vi servono queste cose da amazon da tanti altri negozi eccetera ma controllate bene perché lo stesso viene venduto su amazon a 20 euro e io l'ho acquistato a 88 centesimi uguale identico spiaccicato con le stesse performance con la stessa forma e tutto quindi è vero aliexpress ci mette tipo un paio di mesi a mandarvi la roba però cavolo da 20 euro a 88 centesimi sinceramente aspetto anche un paio di mesi comunque andiamo subito ad aprire l'applicazione così non ci perdiamo in chiacchiere che non ci credo ma l'ho disinstallata un fail proprio in diretta vado subito a riscaricarla non ho parole eccola qua per fortuna sono riuscito a riscaricarla subito andiamo subito a giocare modalità come sempre estremo e iniziamo con le domande con quale personaggio famoso dormiresti senza pensarci nemmeno non so mi tocca pensarci perché ce ne sarebbero talmente tanti penso ma dormire boh non saprei dormire iniziamo subito con le domande stupide cioè se devo dormire con qualcuno chi se ne frega se devo farci qualcos'altro allora lì magari ci pensiamo bene a chi scegliere e poi devo scegliere anche in base a cosa dovrei farci invece di dormire quindi non so bene cosa rispondere e sono anche un po' paraculo devo essere onesto hai mai pagato o sei mai stato pagato per una qualche forma di sesso se sì quanto a dire la verità non mi è mai successo fortunatamente non ho mai dovuto pagare e non mi hanno mai pagato perché diciamo che preferisco guadagnarmi i soldi in qualche altro modo ecco mettiamola così ti sei mai innamorato di uno dei tuoi amici intimi no innamorato no qualche cottarella sì magari quando sei un po più giovani magari tipo le scuole medie le superiori capita comunque di prendersi una cotta per gli amici più vicini gli amici più stretti però innamorato innamorato nel vero senso della parola no ma qualche cotta sì sicuramente penso capiti un po' tutti boxer o slip assolutamente boxer anche se mi capita di utilizzare slip a volte qual è il peggior consiglio che qualcuno ti abbia mai dato oddio me ne hanno dati talmente tanti di consigli orrendi perché poi sapete quando parlate di qualche vostro problema alle persone loro hanno sempre la soluzione loro ne sanno sempre più di voi c'è sempre quel saputello che ha la verità in bocca e che io non sopporto beh allora diciamo che se è un consiglio che poi ho seguito probabilmente è stato un consiglio su una scelta che avrei dovuto fare tanti anni fa e che probabilmente mi avrebbe anche cambiato un po' la vita io ho ascoltato purtroppo questa persona che mi ha consigliato di lasciar perdere di non fidarmi e purtroppo invece avrei dovuto fidarmi e non lasciar perdere probabilmente adesso avrei molti più soldi avrei un po' più di soddisfazione personale probabilmente avrei un pochino più di di realizzazione quella sensazione di essere realizzati e sì forse quello è stato il consiglio peggiore ero davanti a una scelta che adesso non sto qua a raccontarvi perché ci vorrebbero ore ed effettivamente a volte capitano quelle scelte che non riesci a capire se ti puoi fidare o meno se è una cosa seria oppure è una presa in giro un'inculata e questa persona ma non solo questa persona sono state più persone che mi hanno detto guarda secondo me lascia stare secondo me ti prendono solo in giro è solamente un'inculata e invece avrei dovuto seguire il mio istinto e andare avanti e fidarmi però vabbè fa niente ormai purtroppo quando si fanno determinate scelte poi non si può più tornare indietro anche perché il tempo va avanti l'età aumenta e di conseguenza molte possibilità non esistono più bisogna purtroppo cogliere al volo le possibilità che arrivano e rimpiango un po' questa cosa e anche altre cose sono un po' quelle cose che dopo ti porti avanti e dici ma cazzo perché non ho accettato perché non ci ho provato ma da adesso in poi sappiate bene che ragionerò sempre solo con la mia testa e non ascolterò più nessuno ti hanno mai scoperto mentre facevi sesso fortunatamente no fortunatamente non sono mai stato scoperto più di una volta mi è suonato il cellulare perché ovviamente le persone beccano sempre il momento peggiore per telefonare e in quei momenti ti suona il telefono e tu sei sempre le dire ma cazzo adesso cosa faccio rispondo non rispondo lascio stare e se poi magari lascio stare comincio a chiamarmi tipo 5 volte di fila e quindi comunque ti rovinano il momento però scoperto scoperto no diciamo le telefonate moleste ecco cosa ti piace di più della tua vita? mio dio che domandona sono proprio domande estreme ma non nel senso hot nel senso scemo del termine ma veramente certe domande sono importanti e quasi pesanti tipo l'altra volta c'era quella sulla paura di morire e adesso c'è cosa mi piace di più della mia vita della mia vita oddio non saprei dirvi perché non apprezzo particolarmente la mia vita infatti sto cercando di cambiarla radicalmente sto cercando di impegnarmi per cambiare tutto per riuscire a stravolgerla e renderla come voglio io perché forse è giunto anche il momento che io prendo in mano la mia vita decida io cosa fare della mia vita e cerchi ovviamente di realizzare per quanto possibile i miei sogni e le mie aspirazioni la cosa che mi piace di più adesso mi verrebbe da dire prima di tutto il rapporto che ho con voi che so che sembra stupido dirlo e sembra quasi una leccata di culo ma non lo è è la verità perché personalmente è una soddisfazione enorme è veramente una cosa molto importante molto mi sprona molto ad andare avanti in quello che faccio e non solo qui su youtube ma anche nella vita perché qualche anno fa io ero la classica persona che mi imbarazzavo tantissimo mettermi a filmarmi per me era una cosa assurda io mi ricordo che non so se l'ho già raccontato se per caso nelle feste o feste di capodanno eccetera qualcuno mi filmava io gli facevo cancellare il filmato e mi incazzavo come una iena perché mi vergognavo tantissimo mi imbarazzavo tantissimo non ero sicuro di me pensavo di essere una persona schifosa pensavo di essere non so avevo quella sensazione di essere diverso dagli altri di essere inferiore agli altri e poi invece instaurando questo rapporto con voi tramite questo canale tramite questo toys expression oltre alle soddisfazioni che ho avuto e che spero di avere sempre di più magari a livello di numeri magari speriamo anche a livello economico sapete che io non mi trattengo niente vi dico la verità ma questa cosa questo rapporto che ho con voi questo apprezzamento che ho da parte vostra mi ha dato comunque un po' più di autostima quindi anche quando esco di casa quando anche quando vado in giro me ne frego molto di più confronto a prima degli altri prima mi facevo molti più problemi adesso invece se devo mettermi le scarpe che vi ho fatto vedere con i brillantini d'oro non me ne frega un cazzo io me le metto e vado in giro così perché sto iniziando e sto imparando a capire chi sono sto soprattutto imparando a capire che c'è gente che mi apprezza c'è gente che diciamo mi vuole bene e se la gente mi apprezza quindi voi vuol dire che ho qualcosa anch'io sto parlando tantissimo però è una cosa veramente che voglio spiegare bene quindi forse la cosa più bella che ho adesso è proprio questo canale piccolino lo dico sempre però proprio in questi giorni ho fatto anche un po' qualche paragone perché poi sapete ovvio nascono spontanei certi paragoni ma che poi dire paragone è anche brutto è proprio ho fatto diciamo un piccolo confronto con dei canali anche un pochino più grandi di me ovviamente non canali grandissimi ma canali da 10 15 20 mila iscritti e mi sono reso conto che il mio pubblico quindi voi la nostra famiglia è veramente molto unita confronto a tanti altri canali che magari hanno numeri più alti ma poi le visualizzazioni sono basse i commenti sono pochi l'apprezzamento verso i video e verso il lavoro di quella persona è poco io invece ogni cosa che faccio ho sempre voi che mi sostenete ed è veramente una cosa bellissima e me ne rendo conto ogni giorno di più e quando faccio questi piccoli confronti da una parte inizialmente magari li faccio perché sono un po' demoralizzato perché come vi dico sempre ovviamente vorrei che il canale crescesse molto più in fretta molto più velocemente e molto di più ma dall'altra parte poi mi rendo proprio conto che a paragone di altri canali anche più grossi noi siamo veramente tanto più uniti tanto più più vicini e questa è una cosa veramente bellissima oltre a questo penso che una delle cose più belle che ho nella mia vita sia il rapporto con mia mamma e la mia gatta chiuso il discorso che questa risposta è durata veramente un sacco qual è lo scherzo più cattivo che hai mai fatto a qualcuno? oddio scherzo più cattivo che ho fatto io a qualcuno mi viene in mente una volta in cui ero con una mia amica siamo andati in un posto che lei non conosceva quindi non conosceva la strada siamo scesi dalla macchina abbiamo fatto le nostre cose io a un certo punto ho in un momento suo di distrazione ho preso sono salito in macchina e sono scappato via lasciandola lì ovviamente non sono andato tanto distante però gli ho fatto prendere uno scagazzo assurdo perché lei era convinta che io me ne stessi andando via e mi ricordo che l'ho lasciata lì una mezz'oretta 40 minuti abbondanti quindi adesso mi viene in mente questo ma penso di averne fatti comunque anche di più cattivi confronto a questo diciamo che quando mi ci metto a fare scherzi li penso bene li studio bene e devono andare a segno per forza di che colore è la tua biancheria intima? oddio un attimo che guardo allora adesso ho un paio di boxer neri con tutte le scritte ma se non sbaglio le avevo messe anche in una foto su instagram fatemi controllare che semmai vi metto qui la foto così li vedete e facciamo prima vabbè è una foto un po' così ma chi se ne frega ve la lascerò comunque qui così vedete i boxer che sto indossando adesso hai mai lasciato intenzionalmente che qualcuno ti vedesse interamente o parzialmente nudo facendo finta di non sapere di essere visto quando dove e con chi? allora se qualcuno mi ha visto nudo mentre non me ne accorgevo non lo so oddio una volta sì l'ho già raccontata in un video molto tempo fa della vecchietta di fronte che mi ha visto durante un temporale perché mi si è alzato completamente l'accappatoio in balcone quindi mi ha visto tutto ma fa lo stesso so che l'ho già raccontato in un altro video ma che io l'abbia fatto intenzionalmente no anche perché non ha senso se devo sfogliarmi ti dico guarda che mi spoglio cioè non devo far finta di farmi vedere non farmi vedere queste cose un po' vie di mezzo non fanno per me o tutto o niente se dovessi dare un consiglio non fare come ho fatto io ad una persona più giovane quale consiglio sarebbe? beh mi riallaccerei al discorso di prima così sfrutto questa domanda anche per dare un consiglio a voi se mi posso permettere ragionate con la vostra testa seguite sempre il vostro istinto e i vostri sogni non fatevi frenare da persone che magari non ne capiscono niente e non riescono a capire cosa avete dentro cosa stiate provando in quel momento cercate di non avere rimpianti non perdete tempo non pensate a lo farò domani lo farò fra una settimana se volete fare una cosa se volete raggiungere un vostro sogno realizzarlo mettetevi in moto subito attivatevi subito e iniziate subito a seguire la vostra strada perché poi ragazzi quando perdete tempo per vari motivi a me è successo ve l'ho sempre detto e rimpiango tantissimo di averlo fatto vi ritrovate a un punto in cui di te cazzo adesso io potrei essere già lì e invece sto facendo il doppio della fatica perché non ho più l'età giusta per farlo e quindi è più difficile e in più appunto potreste già esserci senza aver perso tempo quindi non perdete tempo e veramente andate avanti con la vostra testa fate le vostre scelte anche contro tutto e tutti ovviamente nel rispetto degli altri ma questo lo sapete e questo è l'unico consiglio che mi sento di darvi non perdete tempo della vostra vita perché se no un giorno veramente lo rimpiangerete indossi la biancheria intima? beh sì per forza ne abbiamo anche appena parlato la indosso sì e come? anche perché penso sia molto scomodo andare in giro senza biancheria intima per le donne non lo so però per gli uomini diciamo che c'è una cosa in più che non sta ferma e a me quando non sta fermo dà fastidio chi è il tuo peggior nemico? il mio peggior nemico sicuramente sono io so che è strano da dire ma io sono veramente il nemico di me stesso perché adesso come adesso so che potrei fare tanto di più so che potrei dare tanto di più so che potrei arrivare e sforzarmi tanto di più in tutto in qualsiasi campo nella vita ma mi freno perché ho certe paure che mi frenano ci sono certe cose che la mia testa mi blocca e quindi sì sono veramente il peggior nemico di me stesso il peggior critico di me stesso io mi critico tantissimo mi svaluto tantissimo veramente se dovessi trattare qualcuno come tratto me stesso quella persona proprio non riuscirebbe a sopportarmi perché mi odierebbe da quanto potrei essere quasi cattivo e io con me stesso mi comporto purtroppo così faccio veramente fatica a volermi bene a darmi i miei meriti e tendo sempre ad autocriticarmi e a svalutarmi e vi assicuro che non è bello ci sto lavorando ma non è per niente bello qual è la cosa più pazza che hai fatto nudo? la cosa più pazza che ho fatto nudo ma non ho fatto niente di pazzo da nudo se può essere considerata una cosa pazza ma no non è considerata una cosa pazza semplicemente abbiamo scherzato io e una mia amica mentre eravamo in vacanza ho aperto l'accappatoio e mi sono fatto vedere nudo ma non è una cosa pazza altre cose pazze che ho fatto nudo non ce ne sono credo cioè che io mi ricordi non c'è niente se fossi un cibo quale saresti e come ti mangerebbero le altre persone? oddio se fossi un cibo non lo so che domande sono? penso mi verrebbe da dirvi un McChicken perché li amo talmente tanto io amo quel panino e quindi probabilmente diventerai quel panino e la gente mi mangerebbe con un sacco di gusto perché i McChicken sono fantastici sono buonissimi e in più in questi giorni che sto cercando di disintossicarmi dalle schifezze non sapete quanta voglia io abbia di McChicken mi sa che va a finire che stasera vado al McDonald's non va bene dormi nudo? boh a volte capita ma non lo so a volte sì a volte no raramente non è una cosa che mi piace particolarmente fare per il discorso che vi dicevo prima perché le cose che ballano di qua e di là mi danno un po' fastidio quindi di solito tengo le mutande i boxer qual è la tua caratteristica fisica o emotiva peggiore? allora provo a rispondere a entrambe beh l'emotiva sicuramente che sono molto lunatico e quindi mi butto giù molto facilmente basta poco per farmi rimanere male anche se non lo do mai a vedere io comunque tendo ad avere sempre il sorriso sulla faccia quando mi incazzo è diverso ma quando ci resto male faccio finta di niente io sorrido e nessuno si accorge di niente però intanto dentro muoio tipo e appunto tendo a buttarmi giù molto tante volte anche solo una piccola critica critica intesa come critica costruttiva non critica di quelle tipo i commenti stupidi o la gente che ti insulta a caso parlo proprio delle critiche quelle costruttive quelle che hanno un senso e quindi mi mandano un po' in pappa il cervello perché comincio a pensare penso troppo comincio a svalutarmi quindi sì diciamo che emotivamente proprio mi butto giù in un attimo invece il difetto fisico più grande come vi ho già detto sono i polpacci che secondo me se andiamo a cercare nella pancia di mia mamma li ritroviamo ancora là che vagano perché si è dimenticata di buttarli fuori insieme a me e vabbè adesso parte la pubblicità con l'unicorno non ci sono più vecchietti adesso ci sono gli unicorni quindi ragazzi direi che anche oggi ho parlato un sacco ho chiacchierato un sacco io spero di avervi tenuto compagnia di avervi fatto fare magari due risate non lo so anche se robe divertenti effettivamente non ce n'erano però qualche riflessione mi è piaciuta e a volte queste cose queste domande mi fanno anche un po' pensare e boh mi sembra quasi che rispondere a certe domande mi faccia anche un po' bene comunque ragazzi io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto spero di avervi tenuto compagnia stanno passando delle mosche davanti alla telecamera farfalle cosa sono e le odio vai via io come sempre vi chiedo io come sempre ma allora io come sempre vi chiedo di lasciarmi qui sotto un like di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto di lasciarmi qui sotto un commento dicendomi cosa ne pensate di queste domande, delle mie risposte e di tutto quello che volete seguitemi anche su facebook e soprattutto su instagram dove pubblico praticamente almeno un post al giorno e un po' di storie ogni giorno io intanto ragazzi vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video